Ciao, io sono Nicola Pianzola, sono attore e fondatore della compagnia teatrale Instabili Vaganti insieme ad Anna Doradorno che è regista e attrice della compagnia. Siamo nei suggestivi spazi del laboratorio San Filippo Neri che per il secondo anno consecutivo ospita parte della programmazione del nostro festival Performazioni. Performazioni, giunto alla sua ottava edizione, è un International Workshop Festival, quindi un festival dedicato ai percorsi di alta formazione nel teatro e nell'ambito delle arti performative. La performance esito di un percorso di formazione dal titolo Megalopolis in the Cities al quale hanno partecipato circa 30 performer, attori, danzatori, artisti e studenti. All'inizio del workshop ognuno di noi ha portato una proposta, un'azione fisica che fosse appunto ispirata al tema della Global City, quindi di questa idea della megalopoli, di una grande città e quindi anche del tema della globalizzazione. E da lì poi abbiamo iniziato a un po' estrapolare appunto queste idee che ognuno aveva portato e cercare di metterle insieme. Il sangue che è antagonista utopico è assolutamente privo di innocenza. Possiamo dire che sì, il tema appunto dello spettacolo è questa idea appunto dell'individuo, della massa insomma, di questa individualità che appunto all'interno di una città molto grande si può perdere. Mi diceva, ti è l'altro la guardia e ricordati che la guardia non è per aggredire ma è per difendersi se ce n'è bisogno. In questo mondo di merda ce n'è bisogno. La polizia mi dice che non mi è permesso camminare in una pelle mista in un paese islamico, che devo rispettare le nuove regole e io mi rivello, sì mi rivello perché io voglio vestirmi come mi pare, voglio rispettare le mie regole, voglio giustare la mia pelle come vestivo. Il nostro lavoro infatti è partito proprio da una costruzione, nulla era certo fino a, anche adesso nulla è certo in realtà. Come approccio al lavoro e come creazione ci siamo basati sulle scene che abbiamo portato su dei movimenti e su dei testi e poi da lì abbiamo fatto un lavoro sia di gruppo che singolo e volendo un po' apportare la nostra esperienza anche nella città. Io non sono per il piacere di nessuno, hanno preso un ricavimento e gli do un pugno e un'altra. E' un altro! E' un altro! E' un altro! Siamo partiti con un workshop di tre giorni di massa, quindi aperto a molte persone negli spazi di DAS, dispositivo artesceniche, un nuovo spazio qui a Bologna, in cui sono stati selezionati alcuni performer che sono entrati a far parte di un gruppo interno, un team di lavoro che ha continuato il percorso sia a DAS sia negli spazi dell'oratorio San Filippo Neri.